Io vorrei, per passare allo statuto, che mi sembra la questione più urgente che abbiamo da affrontare, vorrei chiarire un aspetto che riguarda i tavoli di stamattina, perché i tavoli che si sono tenuti stamattina, tre per il coordinamento, più uno che riguardava la richiesta dei comitati sanità territoriali di poter avere un momento di confronto fra di loro nell'obiettivo di costruire un comitato sanità nazionale in attuazione dell'articolo 32 è un tavolo di comitati territoriali che hanno svolto un loro incontro su questo percorso. Allora noi abbiamo il dovere, se consentite, che i tavoli che hanno lavorato stamattina riportino in assemblea il loro lavoro e quindi io comincerei da quello sullo statuto, ma poi c'è quello della comunicazione, delle strategie e quello delle azioni popolari urgenti. Quindi comincerei dallo statuto perché è fisiologico dover cominciare da lì, per cui io ripasso la parola a Giuseppe Libutti, ma chiunque abbia lavorato a quel tavolo evidentemente ha piena facoltà. Giuseppe? Meno di 60 secondi, perché ho scritto quello che ho intenzione di dire, però desidero illustrare perché... Ma l'argomento? L'argomento, le iniziative da parare immediatamente... Ne parliamo quando parliamo del tavolo di... Guarda, la logica che abbiamo proposto all'assemblea è che i tre tavoli, a partire da quello dello statuto, relazionano l'assemblea. Siccome c'è anche quello delle azioni popolari, appena vieni tu. Grazie. No, in realtà io sullo statuto non ho nulla da aggiungere, mi sembra che altre persone avevano da fare delle osservazioni riguardo allo statuto. Lo statuto è lo stesso che voi avete visto su internet da una settimana ad oggi. Non ci sono state variazioni che riguardano il merito. È stata fatta un'unica variazione che sì, può essere di merito, che è stata fatta guardando all'utilità della legittimazione attiva in giudizio, per far sì che non ci vengano rigettate le azioni che noi presentiamo per mancanza di requisiti all'interno dello statuto. Quindi lo statuto, a parte quello che avete letto questi giorni su internet, non ha subito alcuna modificazione. Per quanto riguarda il comitato scientifico i nomi sono stati letti, i garanti li conoscete e non abbiamo apportato quindi variazioni significative, se non quella che vi ho detto che è tecnica, semplicemente utile per la Costituzione in giudizio e non per altre motivazioni. se volete leggo come è stato modificato l'articolo 7. L'attività giudiziaria sarà volta a far prevalere l'utilità pubblica e quindi la proprietà collettiva, detta anche proprietà pubblica, che appartiene al popolo a titolo di sovranità, promuovendo giudizi che abbiano come oggetto gli atti della pubblica amministrazione costituzionalmente illegittimi e o l'attività da chiunque posta in essere che abbia leso la proprietà collettiva del territorio e o i diretti fondamentali. Questa è come è stato modificato. Dopo in realtà ho messo di dire che un'altra variazione lessicale ma non di merito perché era già presente all'interno del primo atto è quella relativa al fatto che è stato modificato che l'associazione apartitica con l'associazione non si costituisce in partito e non persegue i fini elettorali. Inoltre su richiesta di Lidia... Non si costituisce. E poi su richiesta di Lidia abbiamo giustamente tenuto conto del fatto che dove prima indicavamo socio abbiamo messo socia, socio per la parità di genere. Queste sono le modificazioni che abbiamo apportato. la mozione di Nicola è leggiamo lo statuto e poi partono gli interventi. Ma no, lo statuto è disponibile da una settimana, non è stato modificato, abbiate pazienza. È stato già pubblicato, c'è stato un tavolo che ha lavorato per tutti, fino a poco fa passiamo agli interventi nel merito. Secondo me bisogna solo leggere le modifiche che abbiamo apportato. Solo queste sono... Allora, non so se ce ne sono altre. E io... Sulla modifica che abbiamo... Non ho più l'atto, ma le modifiche sono queste. Ora, sì, le modifiche sono queste. Chiedo aiuto a qualcuno del tavolo. No, perché... Vabbè, volevo solo dire che noi abbiamo fatto questa precisazione perché per arrivare alla Corte Costituzionale ci sono due strade, o attraverso il giudice ordinario o attraverso il giudice amministrativo. Quindi abbiamo parlato di atti della pubblica amministrazione e di azione, di attività che competenze del giudice ordinario. In modo che sia da parte del giudice ordinario, al quale si potrà chiedere anche un provvedimento urgente ai sensi dell'articolo 700 del Consiglio di Procedere Civile, sia da parte del TAR, a cui si potrà chiedere anche una sospensiva, si chiede poi la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale con ricorso incidentale, che è la via maestra per seguire e per far valere i diritti fondamentali e i principi fondamentali della Costituzione. Quindi la correzione è stata quantomai importante e utile. Allora, Giulietto aveva chiesto la parola, Antonio Ingroio aveva chiesto la parola. Io intervengo perché c'è una questione che non è stata sciolta dalla divisione di questa mattina, perché avevamo poco tempo e perché abbiamo dovuto interrompere la parte che conoscete già, ma questa non l'abbiamo neanche discussa. Allora, quello che ho letto io, e che avete letto anche voi, è che si configura una fisionomia degli organismi direttivi dell'associazione che a mio giudizio non è realistica e non può funzionare così com'è. Per cui, tutti avete sotto mano il testo, potete controllare. Si prevede un presidente e un comitato direttivo di quattro persone, non meno di quattro, che dovrebbero svolgere un ruolo, diciamo, tecnico-operativo, non di dirizzo politico, si immagina. Eh, esatto, questa è la conferma. Quindi si prevede una struttura composta da un presidente coadiuvato da un comitato direttivo di quattro nomi che dovrebbero svolgere. Tre nomi? Beh, tre nomi. Quattro in tutti. Beh, comunque, insomma, non è essenziale quello che voglio dire, è un piccolo organismo che ha funzioni meramente tecnico-esecutive. Dopodiché non c'è altro. Cioè, non c'è altro nel senso che questa associazione, lo ricordo a tutti, perché se no forse dobbiamo, come dire, misurarci con la realtà. Noi siamo adesso 200, 100, non so esattamente quanti siamo, quanti saranno quelli che firmeranno questo documento, ma è chiaro che noi puntiamo a essere 5.000, 6.000, 10.000. Solo i comuni d'Italia sono 8.000. Quindi noi è chiaro che saremo un'organizzazione che perseguirà i suoi scopi e si diventerà un'organizzazione numerosa. Non è possibile gestire un'organizzazione di 5.000 o anche 500 membri senza un organismo intermedio, politico. Per cui io faccio questo esempio. Allora, noi abbiamo un altro organismo, ne abbiamo parlato con Paolo Maddalene perché io avevo chiesto un chiarimento, mi pare che su questo ci siamo intesi. Noi abbiamo un altro organismo che è il Comitato Scientifico. Perché? Adesso io lo carico di un contenuto in modo che tutti capiscano quello che voglio dire. Il Comitato Scientifico, io credo, deve poter svolgere una funzione di indirizzo politico, strategico, di pianificazione. A meno di non pensare che noi convocheremo ogni volta un'assemblea. Vedete, oggi abbiamo fatto questa discussione sui due punti che abbiamo visto, cioè sul Forlalini e sul vaccini. Abbiamo fatto una riunione in assemblea. Sono due temi strategici di importanza straordinaria. Mica sempre lo potremmo fare in assemblea. Ci vuole un organismo che possa discutere queste cose e possa farlo con la dovuta autorrevolezza. Paolo Maddalene stamattina mi ha risposto. Giusto? Per esempio la questione elettorale. C'è la legge elettorale in corso. Tutti ne stanno parlando in Italia. Possiamo uscire da questa assemblea o anche nel corso della prossima settimana senza dire il nostro parere. Ma questo sarebbe completamente assurdo. Noi dobbiamo esprimere un parere. Ma non possiamo convocare tutte le volte un'assemblea per esprimere un parere su questioni strategiche di questo genere. Domani ci potrà essere il CETA. Per esempio, quando sarà approvato, tacciamo? Ma una violazione così palese della Costituzione non possiamo tacere. Ma non possiamo neanche convocare un'assemblea. Ne possiamo affidarci soltanto al giudizio di un organismo tecnico. Quindi ci vuole intermedio. Un intermedio. Può essere in varia forma. Io penso che siccome non abbiamo tempo adesso di trovarne un altro, si deve usare il comitato scientifico e dare al comitato scientifico la necessaria autorevolezza investiti dal Presidente. Volta per volta il comitato scientifico verrà oppure solo a base dell'iniziativa del Presidente, del comitato scientifico o del coordinatore si rivolgerà al Presidente e gli dirà noi riteniamo che si debba prendere una posizione su questo punto e il Presidente risponderà. Di questo organismo noi abbiamo bisogno, Paolo, è evidente, perché quando saremo in tanti noi avremo di fronte la necessità di svolgere il ruolo di orientamento propositivo. Dovremmo dire alla gente che fare, se no la gente rimarrà senza indicazione. Quindi la mia proposta è questa, di dare in questa fase, poi finisco, di dare in questa fase al comitato scientifico il ruolo di svolgere questa attività di indirizzo, mettere per iscritto in varia forma. E poi se riterremo che il comitato scientifico non è adatto per questo scopo, alla prossima assemblea mettere una norma transitoria che dice... Esatto, la prossima, questa però è un assembleare per dire che se questa soluzione intermedia non sarà ritenuta adatta, daremo, che secondo me sarebbe la soluzione migliore, una forma rappresentativa a questo comitato direttivo. Capisco che quello che dice Paolo che non dobbiamo renderci la vita difficile adesso, però strutturandoci sì. E io credo che un organismo intermedio, un comitato direttivo che rappresenti le organizzazioni, bisogna pensarlo. Per esempio, avevo fatto la proposta di fare un comitato direttivo composto dai coordinatori regionali che saranno eletti dalle assemblee regionali di attuare la Costituzione. Non tantissimi, non è una cosa pletorica, ma è una cosa precisa. Uno per regione, nominato dall'assemblea dei membri che saranno riconosciuti, membri dell'associazione. secondo me questa sarebbe la vera soluzione, ma siccome non ce l'abbiamo adesso perché siamo arrivati con l'acqua alla gola per il tempo, io propongo di usare il comitato scientifico per la funzione di indirizzo. Posso rispondere io? Ringrazio. Volevo rispondere a questa un attimo. Sì, però ci prendiamo tutte le osservazioni e poi rispondiamo? Volevo questa, è importante. Sì, però volevo far parlare anche gli altri, vai. No, volevo dire, la necessità, ho premesso, era quella di avere un organo il più snello possibile. Ora non riesco a capire con il dovuto rispetto per il maestro di tutti, Giulietto Chiesa, no? Assolutamente. Come creare un ulteriore corpo intermedio riesca a favorire l'agire dell'associazione. mi sfugge praticamente, come questo possa accadere. Ok, io sono... No, questo è un aspetto. Creare una... È ovvio che il socio si fa portavoce di un'istanza, la sottopone, ok, a chi che sia dell'associazione che in maniera breve, consultando quelli che sono tutti gli organi di competenza, ne discute in tempi brevi e dà una risposta al cittadino, al comitato. Però questi sono tutti aspetti, secondo me, che potranno svilupparsi e prendere forma una volta che l'associazione avrà preso forma. Non andrei ora a gravare, perché può essere che ci sarà bisogno di ulteriori necessità che con regolarmento andremo a disciplinare. Sono d'accordo sui comitati, è venuta fuori tardi questo aspetto, sui comitati regionali. Però è pur vero, lasciatemi dire, che ora siamo con l'acqua alla gola. Però noi sono dieci giorni che abbiamo messo lo statuto sul sito e ho ricevuto personalmente centinaia di osservazioni, le ho vagliate tutte. Non mi si può dire che ora siamo sull'acqua alla gola e mancano dei contenuti essenziali, perché tutti quanti abbiamo avuto gli strumenti per poter dare il nostro apporto a una stesura in tempo per oggi. È chiaro. Allora, scusatemi, però non ci sovrapponiamo, per favore. Mi sembra che la proposta di Giulietta di una cosa non pecca sicuramente la chiarezza e la limpidità e la semplicità, perché tutti la capiscano. Non è che ci dobbiamo dibattere su questo. Io vorrei però dire due cose. Se questa associazione nasce per rappresentare fondamentalmente i territori, è del tutto fisiologico che il regolamento che dovrà nascere nei prossimi giorni parli, strutturi, la forma di organizzazione dell'associazione e la strutturi territorialmente. Quindi, da questo punto di vista dobbiamo tenerne conto, esiste un regolamento da approvare e il regolamento parla della parte organizzativa. La seconda cosa è che il comitato scientifico è del tutto evidente che rafforzato anche nella proposta di Giulietto, che va benissimo, deve avere, perché ha le competenze per farlo, oltre che il profilo, deve avere la missione di indirizzo, perché altrimenti, voglio dire, non è che sta là per rappresentare, questa funzione la deve avere. Per cui io la trovo proprio fisiologica questa funzione. Sulla parte organizzativa e sul corpo intermedio, dalla mia esperienza, ragiono del fatto che poi le assemblee si sono sempre fatte carico di fare un regolamento che riguarda soprattutto l'organizzazione e di strutturare l'organizzazione sul territorio. Finisco qui. Scusate, io forse sono pignolo, ma Paolo Maddalena e i giuristi mi comprenderanno che le questioni di forma sono di sostanza. E allora, noi dobbiamo fare, vero è che da una decina di giorni lo statuto e l'atto costitutivo, in giro, però le idee maturano anche dal confronto personale, e quindi ce ne siamo resi conto confrontandoci in questi giorni che ci siamo riuniti, e questo serve un'assemblea e quindi è giusto che ci sia un dibattito prima del voto. Allora, il tema è questo, rispetto al quale va fatta una scelta di fondo ora, ora o in un'altra assemblea. Megliore. E scusami Luigi, non può essere affidato al regolamento perché, insegna Paolo Maddalena, abbiamo una gerarchia delle fonti. Allora, nella gerarchia delle fonti lo statuto di un'associazione è come la Costituzione, è la Costituzione della nostra comunità. Poi c'è il regolamento di gerarchia inferiore, che deve essere un'applicazione e deve essere attuativo rispetto allo statuto. Allora, noi dobbiamo decidere se vanno bene e ci bastano gli organi sociali previsti o dobbiamo aggiungere un altro organo sociale. La richiesta, la proposta di giurietto è di aggiungere un altro organo sociale, un organo sociale intermedio che si faccia portatore delle indicazioni che vengono dai territori e che potrebbe essere, ma è affidato al dibattito, discutiamo, potrebbe essere la proposta come l'ha fatta giurietto, che a me piace, ma si possono avere anche altre idee, che proprio perché legato ai territori ci siano dei rappresentanti, quindi abbia un radicamento territoriale, ci siano i rappresentanti delle regioni, i rappresentanti del territoriale, le assemblee regionali, territoriali, vediamo che articolazione vogliamo dare, regionali è una buona unità di misura, esprime un rappresentante e questo rappresentante fa parte di quello che esiste in tutte le associazioni, politico, culturali, c'è sindacati, perfino nell'associazione dei magistrati, l'associazione di cui faceva parte ha un organo esecutivo e un organo che dà l'indirizzo politico recependo quello che è venuto dall'assemblea, è il Parlamento, c'è base elettorale che sono i soci della nostra comunità, poi abbiamo il Parlamento che sono i rappresentanti dei soci e poi abbiamo il Governo, ma il Governo ha soltanto compiti esecutivi di quello che viene detto al Parlamento, allora noi non abbiamo il Parlamento in questo, questo è l'organo intermedio, dico per essere chiaro, l'organo cui fa riferimento Giulietto, siamo in tempo per farlo, dobbiamo aggiornarci in un altro momento, questa è un'altra questione, nel senso si potrebbe fare una nuova assemblea non troppo lontana nel quale si istituisce eventualmente questo organismo, però se non istituiamo subito questo organismo rimane il vuoto che diceva Giulietto, rimane il vuoto del fatto che abbiamo una base che ha modalità indirette, improprie e accidentali di venire in comunicazione con il cosiddetto vertice, il vertice che sarebbe costituito da un organo soltanto esecutivo e quindi non ha compiti di indirizzo politico, allora una soluzione intermedia potrebbe essere quella, io lo metto quindi come opzione alternativa, potrebbe essere quella di modificare i poteri del Comitato Scientifico che oggi secondo l'articolo 12 al secondo comma a carattere consultivo, quindi esprime pareri e poi il Comitato Direttivo decide cosa fare, no, l'assemblea, ma è peggio perché se no si dovrebbe ridire l'assemblea ogni 15 giorni. No, però detto così sembra perché è un punto. Vabbè, posso finire o no? Dove si interrompe? Dicevo, a carattere consultivo, e allora in questo caso io ho provato a buttarlo giù poc'anzi proprio, un'ipotesi di modifica di questo articolo, nel quale si dice ad esempio che le proposte di indirizzo per l'attuazione dello scopo sociale formulate dal Comitato Scientifico sono vincolanti per il Comitato Direttivo salvo che quest'ultimo ritenga di convocare l'assemblea sociale per l'approvazione, nel senso che si realizza in questo modo un equilibrio fra l'indicazione del, qualcuno dice di no che non è d'accordo, del Comitato Scientifico, però se appunto si crea una situazione di tendenzialmente vincolante, però il Comitato Direttivo se ritiene che la questione è stata convoca l'assemblea, l'assemblea ovviamente è sovrana, è all'ultima parola. Giuseppe Altieri, poi Federica. No, aspetta, c'era il signore da prima, vuole la parola a Puglini. Vieni, vieni, vieni qua, devi prendere un treno, 30 secondi glieli puoi dare, vieni, ma vieni qua però, Nicola. Io ringrazio innanzitutto la vostra fiducia per la nomina nel Comitato Scientifico, penso che questa associazione è nata proprio perché volevamo mettere in campo, e mai come oggi è così importante, il fatto nel diritto, metterli insieme perché oggi quando si parla di scienza le perizie valgono quasi più delle sentenze. Allora, e tutto è molto tecnicistico, quindi io penso che l'equilibrio che ha proposto Giulietto Chiesa sia fondamentale e penso che Ingroa ha perfezionato, senza che neanche ci siamo sentiti, tra l'altro, su questo aspetto, io ho fatto altre due proposte a loro, quindi siamo in perfetta sintonia senza conoscersi e aver concordato precedentemente, neanche con Paolo, e penso che quindi il primo pensiero che esprimo adesso in questo momento è che io sarei del parere che il Comitato Scientifico, che ovviamente ha il fatto, propone al diritto, dice che dici tu nel diritto possiamo fare? Certamente il principio costituzionale e tutto il resto, quindi oggi quando ha parlato Paolo Maddalena, noi possiamo oggi dire, ma non lo dice lui, lo dice il Presidente, il capo dei NAS, che se noi troviamo le prove possiamo fare una causa che se cancerogeno e glifosate, noi requisiamo facendo pagare i danni a tutti i tumori causati a glifosate, a 500 mila tumori di linfoma, non hoci, come ha detto la Svezia che l'ha vietato vent'anni fa, facciamo requisire la Monsanta a patrimonio di Stato, capito? La mia opinione qual è? Confermare l'idea di Ingroia e che quindi se il direttivo pensa che non va bene qualche cosa si convoca eventualmente all'Assemblea, ma sarà difficile che l'Assemblea è sempre sovrana, oppure eventualmente il direttivo per le osservazioni rimanda finché non c'è una concordanza tra chi propone, ovviamente con la prevalenza sempre del diritto, quindi la presidenza e la direzione dell'associazione, quindi penso che la mediazione che ha fatto Ingroia è buona. Dopodiché le proposte sullo statuto che volevo fare, velocissime, erano uno, che l'associazione che si tutela, si promuole il diritto alla tutela della Costituzione e dell'attuazione, deve porsi lo scopo sociale di tutelare tutti i propri associati in tutte le forme giuridiche di immagine, così perché saremo tutti e siamo attaccati, continuamente esposti e quindi questo deve essere un articolo nostro di autotutela. Secondo, esperienza, 500 tecnici che avevamo riusciti a costruire con Giorgio Celli e solo su presentazione, perché il nucleo principale era come noi, tutti amici che ci volevamo bene, si entrava solo su presentazione del direttivo dell'assemblea o di altre persone e quindi variare, perché il momento in cui abbiamo fatto l'errore di aprire, tutti ci hanno chiuso la settimana dopo invadendo l'assemblea, chiaramente infiltrando l'associazione, quindi io sarei anche con una forma di tutela nelle iscrizioni e adesioni, perché questa è un'associazione che non si propone politica e quindi candidature, ma si propone applicazione della Costituzione e esperti di fiducia. Basta. Allora grazie, su questa rispondo subito sull'ultima, è un'associazione politica e il fine politico è l'attuazione della Costituzione, no quindi è rilevante. No c'era lui, no c'era lui, da prima. Ho sentito mia Federica poi, sicura Tim, ma io amo rispettare le… è uguale, prima o dopo non cambia assolutamente nulla. Sì, se… Sì, se un po' guarda, non può prendere la domanda, il nome. Vai, vai, vai. Allora io lascialo dire Ivano Spano perché penso che abbiamo la stessa perplessità riguardo forse alla struttura, ahimè, che deve snellire sicuramente la mole e le vertenze che arriveranno inevitabilmente da parte di tutta Italia e renderà difficile quindi essere operativi, mi rendo conto, però un po' il sospetto che sia un po' troppo verticistica, il problema dei problemi, la struttura che si è data all'associazione, temo che si disì, perché credo che altrimenti l'assemblea perderà di valore, completamente in concreto, quindi non ritengo in me che la proposta che avete proposto sia soddisfacente da tutti i punti di vista. La mia proposta è ora qui, la farei parlare meglio al professore Spano, però la mia proposta è… io ho preso la parola perché c'è stata una modifica che abbiamo apportato seduta a stante, io e Paolo Maddalena allo statuto. Sì, sì, sì. No, no, vabbè, sì, certamente. Abbiamo apportato e condividiamola se siamo d'accordo tutti, però tornando al discorso di qui sopra dovremmo un attimo assumere una forma decisamente che sia più collettiva, in cui le decisioni siano prese in maniera collettiva. La modifica è nell'articolo 5 dello statuto, è la scritta di suo pugno Paolo Maddalena e prevede, nella parte in cui si parla appunto dei soci, che i comuni in quanto enti esponenziali delle comunità si impegnano ad eliminare tutte le situazioni, anche pregresse, in via di autotutela affinché nel territorio di competenza, ora beh che è la perfezione Maria, che non riesco a leggere la calligrafia, nel territorio di competenza siano attuati in concreto i principi e le norme della Costituzione. Il mancato rispetto di quanto, appunto, di quanto c'è scritto, vabbè comunque insomma il concetto è questo, le pubbliche amministrazioni non ci devono fare le scarpe e devono comportarsi in concreto in seconda Costituzione. dal momento che siamo tutti a conoscenza in quanto militanti, che le pubbliche amministrazioni in passato hanno già posto in essere degli atti decisamente in palese violazione della Costituzione, non possono aderire al movimento, all'associazione senza eliminare i danni che hanno fatto. Penso che questo sia il modo più concreto e più reale per portare avanti. Credo quindi che vado a tenere l'accordo su questa modifica. Federica, questo ne avevamo già discusso in assemblea, avevamo convenuto che il potere dell'associazione non è quello di giudicare l'operato di un sindaco, non possiamo noi, è evidente che se un sindaco... pubbliche amministrazioni in generale. Va bene, grazie. Hai fatto la proposta, magari l'ha detta a lui e poi la metteremo, non so, ai voti o ne discutiamo, insomma. Mettiamo ai voti. Grazie. 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 Allora, quello che sto per dire in linea di principio è molto vicino a quello che ha detto tu, Giulietta Occhiesa, è anche un po' a quello che ha detto Antonio, però va puntualizzato meglio. O siamo intelligenza collettiva e ci muoviamo in termini di intelligenza collettiva o continuiamo a fare gli errori del 2013, del 2014 e li facciamo anche qui nel 2017. Quindi noi di fare ancora errori non ce lo possiamo permettere. Stando a quello che noi diciamo sempre, il nostro punto di riferimento è la Costituzione, il popolo sovrano, l'assemblea sovrana. Va bene l'assemblea sovrana, ma se creiamo un comitato direttivo, il comitato direttivo è di quattro persone minimo, può essere anche composto da più persone, a mio avviso, e questa è la proposta che voglio mettere ai voti, che sia rappresentativo di tutte le associazioni costituenti ad oggi più le rappresentatività territoriali ad oggi. Perché così c'è un organismo collettivo eletto dall'assemblea che per i prossimi tre anni opererà affinché si porta avanti quel lavoro che vogliamo portare avanti di disinfusione sul territorio e che parte realmente da un lavoro dal basso, è un lavoro di raccordo tra movimenti, associazioni, persone che sul territorio lavorano. Il comitato scientifico, mi permette, essendo stato un comitato scientifico proposto, continuerà a fare il lavoro che dovrà fare rendendo conto, rapportandosi col comitato di direttivo e con l'assemblea. Quindi l'organo centrale in questa nostra costituente associazione che dovrà fare il lavoro per i prossimi anni sarà il comitato direttivo, giusto? Sì. Sì, e quindi voglio dire, la proposta che ho fatto resta e chiedo di che venga messa ai voti. Credo che poi la signora... Tra l'altro avevo già fatto questo, lo avevo già comunicato quando eravamo in fase di costituzione dello statuto, l'avevo già comunicato che dal mio, dal nostro punto di vista, di prima le persone, che per chi ci conosce sa come operiamo, era di allargare al massimo questa parte. Grazie, credo che però una cosa vada detta, se ho ben capito il comitato scientifico non deve rendere conto, uno è parte del comitato scientifico per le sue, insomma perché è rinomato e ha delle garanzie, poi il comitato dei garanti, se un membro del comitato scientifico non rispetterà dei requisiti minimi saprà prendere e indicare all'assemblea chi non rispetta i requisiti. Glauco Benigni ora voleva prendere la parola. Sì, Glauco perdonami, faccio, siccome ho avuto un, diciamo, questo aspetto credo che sia di rimente, Antonio Giulietto, se c'è anche rispetto, perché diciamo c'è stata una persona che ha detto ma questo non rispetterebbe il fatto che ci sono persone che non hanno alle spalle né organizzazioni né associazioni. Io questo lo voglio chiarire in maniera ulteriormente limpida, questa organizzazione, questa associazione nasce con il preciso obiettivo che i cittadini e le cittadine, le cittadine e i cittadini costituiscano i comitati territoriali e quelli siano in rappresentanza per formare i corpi intermedi. Questo è il lavoro che ci aspetta, il vero lavoro che ci aspetta perché altrimenti sapete cosa facciamo? Il bis, il tris, il quatris di cose già fatte dove ci sono decine, centinaia, migliaia di cittadini che si iscrivono ma il ruolo dei cittadini e delle cittadine e fare organizzazione sul territorio e l'organizzazione sul territorio e entrare nella logica. Io sto dicendo solamente la mia opinione rispetto alla risposta che poi è esattamente quello che prima di dare la parola a Glauco voleva... No, qui c'è un problema che bisogna... Io capisco benissimo le ragioni di Giacomo ma sono in netto disaccordo, proprio in netto. Ci sono due linee e voi siete naturalmente sovrani per decidere. Scusami, Giacomo, possiamo rispettare l'ordine? No, scusami, no, poteva essere utile per la chiarificazione, scusami, semplicemente. Siccome si discute della mia proposta, questo è utile per la chiarificazione della mia proposta. No, no, io non discutevo affatto... Mi pare invece di sì, scusate, chiedo all'assemblea, mi concedete di fare una replica chiarificatrice, poi voi siete sovrani, potete decidere se vi va o se non vi va, è molto semplice. Invece di stare a perdere tempo con 30 interventi. Me lo concedete? Sì, me lo concedete? Grazie. Allora, ci sono due linee qui, una delle quali è la mia, e io adesso in un minuto ve la chiarisco, e c'è la linea di Giacomo che invece non è la mia linea, chiaro? No, scusami, sarà di Paolo Maddalena, io prima ho detto che... Va bene, va bene, ok, ho capito, va bene, allora, diciamo così, il resto è la sua linea anche, le sue obiezioni, le sue obiezioni. Allora, c'è una linea che si può esprimere così. Noi siamo un'associazione di base che vogliamo rappresentare, le istanze della base, punto. Questo è perfettamente legittimo. Io ritengo che questa sia una linea perdente. Perché? Molto semplice, perché accadranno, accadranno, stanno accadendo e accadono adesso, cose che la base non potrà risolvere. Perché quando il Parlamento approva il CETA, non c'è qualcuno che dice ti pronunci o non ti pronunci, o ti pronunci o perdi il treno, va bene? Io non ho detto che bisogna andare senza la base, ho detto semplicemente che tu devi avere un organismo che è in grado di esprimere un giudizio. Perché se non ce l'hai, sparisci dallo spazio informativo nazionale. Non conti, non esisti. Allora noi non possiamo, ci sono alcuni esempi, oggi abbiamo discusso due esempi in assemblea. Abbiamo discusso due esempi in assemblea, il Forlanini e i vaccini. Sono questioni che possiamo sottoporre all'assemblea, dobbiamo convocare un'assemblea. L'abbiamo discusso oggi perché c'è l'assemblea, ma ogni giorno ce ne sarà una. Domani, tra l'altro, noi non abbiamo parlato della guerra, domani noi possiamo trovarci di fronte a gravi decisioni di questo governo in materia di armi, di spedizioni all'estero, di partecipazione alla guerra. Che facciamo? Aspettiamo che si pronunci un nostro iscritto da qualche parte? È chiaro che non si può fare così. Io non sto proponendo nessuna idea di vertice, però scusate, io sono rigorosamente dell'opinione che non si deve essere demagogici. Il popolo conta, ma solo se è organizzato. Se non è organizzato non conterà mai. E questo di dare un orientamento al popolo quando il popolo non può esprimerci perché non ha gli strumenti per esprimerci, questo è demagogia. Scusate tanto, sono due linee. Grazie, grazie. Poi voi decidete come vi fare, questa è la mia posizione. Spero di essere stato chiuso. Perdonate tutti, professor Maddalena. Guardate, qui io mi sono occupato soprattutto dell'aspetto teorico che ho cercato di esprimere. Questi aspetti organizzativi sono molto importanti e non è scandaloso se cambiamo opinione e se ci confrontiamo anche in questa sede. D'altro canto, questo è un momento importante in base al quale le decisioni prese oggi varranno nel prossimo futuro. Noi, quello che devo riconoscere a Giulietto è che è una cosa vera, nello statuto manca la funzione di governo. Noi dobbiamo tenere presente che in democrazia non c'è stata solo la tripartizione dei poteri ma c'è stata la ripartizione in parecchi poteri e soprattutto quando si è parlato di legislativo poi di esecutivo. Nell'esecutivo si è distinto l'amministrativo e il governo. Quindi quello che veramente manca e che dobbiamo provvedere adesso a colmare il vuoto c'è un vuoto. Hanno ragione Giulietto e Antonio. C'è un vuoto perché la funzione di governo non si vede che la deve esercitare. Perché abbiamo messo col massimo spirito di altruismo un consiglio direttivo assolutamente esecutivo ma ci domandiamo esecutivo di che? Dobbiamo convocare di volta in volta l'assemblea? È un po' difficile. Allora lo vogliamo spostare vogliamo spostarlo al consiglio al comitato scientifico ma io direi questo guardate seguiamo le orme del passato seguiamo la storia perché in fondo le associazioni hanno tutta un'esperienza dietro le spalle allora restituiamo questa è la mia proposta nuova non concordata con nessuno quella che viene perché noi agiamo così non ci mettiamo non ci mettiamo non ci mettiamo d'accordo prima eccetera le camarille via di guai io penso che il consiglio direttivo ha una funzione che il comitato scientifico ha una funzione che tutti gli organi sono tra loro in correlazione come dicevo prima Giulietta sono vasi comunicanti allora io al comitato scientifico aggiungerei un potere propositivo potere propositivo oltre che a quello consultivo propositivo forte anche la redazione di un progetto di legge una cosa del genere e poi restituirei al potere al consiglio direttivo quello che è il potere di tutti i consigli direttivi di tutte le associazioni cioè un potere deliberativo spesso da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea secondo la gravità del momento ma il consiglio direttivo è il governo è il governo dell'associazione allora la mia proposta è di modificare l'articolo sul consiglio direttivo mettendo al primo posto di attività il governo la funzione di governo delle cose salvo scusatemi parere dei garanti salvo il parere dei garanti vediamo che dovere o secondo dei casi l'approvazione se lo facciamo d'urgenza poi l'approvazione insomma il potere di di parere e di approvazione da parte dei garanti perché quello è un fatto essenziale distintivo della nostra associazione rispetto alle altre perché noi vogliamo agire nella massima limpidezza e soprattutto che in ogni momento ci siano persone che si sono guadagnate con loro sudore il consenso dei soci e che siano garanti che l'attività del consiglio direttivo sia un'attività svolta ai fini statutari cioè dire per attuare per attuare alla Costituzione potremmo trovare un accordo modificando l'articolo che riguarda il consiglio direttivo e che dove sono elencate A, B, C non mi ricordo mettendo al punto A il governo dell'associazione e le attività da svolgere e poi mettendo al consiglio al comitato scientifico anche il potere non solo consultivo ma anche propositivo assolutamente propositivo delle azioni da svolgere un momento voglio dire una cosa per quanto riguarda l'indirizzo politico è vero noi abbiamo accettato di svolgere un'attività politica P maiuscola politica fuori dal lagone politico nessuno di noi scende in campo nel momento in cui mette una lista se ne va nel momento in cui mettere probabilmente avrà il nostro appoggio perché con questa con questa scuola insomma avrà tutti gli elementi per poter riuscire però l'associazione rigorosamente a cominciare da me prima di tutto ci teniamo assolutamente fuori dal lagone politico io anche per una questione di età 81 anni e mezzo non è che sono ragazzino che si può mettere a fare politica ed è molto importante in tutto questo tenere la barra dritta e chi ci aiuta a tenere la barra dritta devono essere i garanti perché purtroppo siamo uomini siamo fallaci tutti possiamo sbagliare quindi che ci sia l'istituto della garanzia come se fosse il presidente della repubblica diciamo così come dovrebbe essere il presidente della repubblica o la corte costituzionale e poi il governo tutti gli statuti lo danno al consiglio direttivo perché noi non dobbiamo usare questo l'avevamo fatto in uno spirito così di far presto e teniamo presente l'ultima raccomandazione che voglio fare noi adesso ci siamo appena di unito e questo è un grandissimo risultato ma questo grandissimo risultato sapete quante persone numericamente hanno lavorato non si conto si conto a meno di una mano meno di una mano adesso non ci proiettiamo talmente al futuro da dover prevedere anche quello che succederà fra vent'anni per ora poi tutto si modifica nel tempo per ora noi dobbiamo avere un statuto funzionale al momento al momento perché è chiaro che noi vorremmo istituire subito dei coordinatori regionali per lo meno 20 coordinatori che si vedrà nel regolamento si vedrà nel regolamento eh? grazie scusami scusami tante scusami tanto è stata proprio una cosa grave mi chiedo scusa coordinatori e coordinatrici coordinatori e coordinatrici regionali le cui cose le cui forse qualcosa poi è sul numero delle cose noi abbiamo detto aperto erano quattro che abbiamo messo le cose magari vedremo di far inserire prego di specificare no scusate si è scritto ora deve parlare Claudio Benigni e dopo Bartolomei si poi lui no Bartolomei Spano no se mi vuoi dire qualche cosa dico il signore dietro cara assemblea finalmente eh questo è un momento assembleare ci siamo arrivati allora io faccio parte del comitato scientifico perché ho accettato l'invito di Paolo Maddalena l'ho ringraziato ringrazio tutti anche gli altri poi ci siamo chiesti che cosa fa questo comitato scientifico allora io ho sentito dire che poteva fare il governo l'orientamento politico una una buonanotte scusa scusa mi chiamo Glauco Benigni sono del 1950 vergine con ascendente tigre giornalista vabbè dai e mi occupo di comunicazione di comunicazione no hai ragione perdona no pensavo che fosse un'altra cosa siccome io ho ceduto il passo a tanti no poi il tempo è il tempo allora secondo alcuni perché poi ognuno ha veramente la sua visione del mondo la sua belt anciaung il comitato scientifico dovrebbe essere quello che dà l'indirizzo e io io in parte sono d'accordo perché a me l'idea che arrivano i membri regionali e che giustamente privilegiano le loro questioni e magari si dimenticano di questioni internazionali perché non gli interessa anche il momento mi fa un po' mi dà fastidio no cioè preferirei che ci fosse un comitato scientifico fatto da premi Nobel i quali si occupano solo di questioni internazionali però bisogna essere ostimorici bisogna pensare globale e agire locale per cui ci mancherebbe altro quindi mi chiedo quale sarà il rapporto tra il comitato scientifico e il comitato territoriale definiamolo così ed è questa è una cosa che non credo che si possa risolvere adesso ma la metto all'osservazione dell'immediato futuro il comitato scientifico poi è aperto illimitatamente ha dei criteri di inclusione deve essere ratificato dall'assemblea paolo dice no però allora non deve essere ratificato meglio io mi sento incluso insieme grazie a noi del comitato scientifico deve essere ratificato dall'assemblea perché perché questo sana il fatto che noi non siamo stati eletti perché non essendo mai stati eletti non essendo mai stati sottoposti al vaglio dell'assemblea sembrerebbe che poi il comitato scientifico è arrivato no noi dobbiamo essere ratificati dall'assemblea oggi che è un aspetto che mi sembra quando e sono proposti oggi dobbiamo ratificarli e questo sto dicendo noi dobbiamo oggi ratificare quando noi fossimo ratificati si pongono due altre ipotesi a parte quella del governo che sembra decadente è un attimo però non mi sembra che sto a raccontare barzellette io ho ascoltato tutti in grande silenzio due ipotesi l'ipotesi vincolante proposta da Antonio Ingroia perché devo fare riassunto c'è una cosa che deve essere votata secondo Ingroia il comitato scientifico deve avere facoltà vincolanti nei confronti del comitato direttivo secondo Paolo Maddalena deve avere anche facoltà propositive secondo me bisogna elencare quali sono le facoltà del comitato scientifico cioè che cosa almeno 4-5 cose perché propositivo grazie ci mancherebbe altro ma propositivo poi a chi propongo e chi è che prova chi è che nega chi è che cioè propositivo vabbè è come è un po' più deconsultivo ma non è niente non è che non è niente è tutto molto importante però noi ci mettiamo il tempo il sangue e così via quindi anche questo va calcolato poi non capisco quanti membri poi sono arrivato e ci mancherebbe altro o i futuri associati il signore che è andato via prima c'ha ragione cioè se noi come io auspico diventiamo importante non possiamo essere scalabili e non possiamo riconvocare l'assemblea straordinaria per cambiare lo statuto per adottare i criteri di inclusione e di esclusione dobbiamo in qualche modo fissarli oggi dobbiamo escludere di essere scalabili perché noi potremmo essere comunque scalabili da parte di gente che ha denaro e dice allora che votano i singoli come le associazioni prendi 100 singoli quanto è? 50 euro l'uno ma presentatevi in assemblea non si può fare ci vuole un limite all'ingresso l'elezione il comitato direttivo governo il comitato scientifico è stato va bene allora d'accordo a me interessa la ratifica e mi interessa poi mettere ai voti le tre ipotesi cioè le facoltà del comitato scientifico deve essere propositivo deve essere di governo è molto remota come ipotesi ma lo mettiamo ai voti o deve avere potere vincolanti e comunque le facoltà le sue facoltà devono essere abbossate grazie grazie c'è no no io non ne ho bisogno c'è Bartolomei no grazie no c'è Bartolomei ora tu sei l'ottavo ci sono sette persone scusate ci sono delle persone che giustamente dicono siccome noi dovremmo andare via si prevede quando si vota perché altrimenti noi andiamo via e non prendiamo parte né alla firma né alla votazione allora diamoci un limite possibilmente dove si decide quella parte lì per esempio deve andare via tutta ok perfetto vai io sarò brevissimo quello che manca in quello statuto è diciamo l'organismo che forma la volontà sociale che non è soltanto la funzione di governo cioè l'organismo che decide come attuare gli indirizzi statutari noi il governo teoricamente era l'esecutivo insomma quel direttivo era congegnato come un esecutivo allora se noi vogliamo e la proposta di Giulietto Chiesa era una proposta transitoria che andava bene per cui diciamo il comitato scientifico suppliva questa mancanza in attesa di una soluzione torniamo lo schema più tradizionale come propone Paolo bene allora il comitato direttivo diciamo diventa l'organo formativo della volontà sociale se diventa l'organo formativo della volontà sociale deve contenere al suo interno un'indicazione sui criteri formativi è chiaro un'indicazione sui criteri formativi i due criteri formativi sono quelli che secondo me ha proposto Nicola Nicola grazie che ha proposto Nicola cioè quello di rappresentativo dei territori e delle associazioni che aderiscono e compongono allora quel direttivo diventa un organismo diciamo abbastanza consistente numericamente con una norma che definisce i criteri che è la rappresentatività dell'associazione e dei territori quindi è un organismo un po' più consistente il quale all'interno nomina diciamo la struttura esecutiva grazie la nomina nel suo seno e a quel punto il comitato scientifico riprende il ruolo propositivo consultivo d'appoggio grazie Spano io mi chiamo Ivano Spano faccio il docente universitario di recente ho ricevuto una gratificazione chiamiamola così importante sono anche il segretario generale dell'università delle nazioni unite che si denomina per la pace territorio Europa sede Roma l'università è importante fu istituita da Coffiamman posta in Costa Rica l'unico paese rimasto ancora al mondo che ha abolito l'esercito e trasferito le risorse alla cultura ed è un fatto importante anche per tutti noi questo è per l'Italia che ha ricevuto questa nomination per l'Europa peraltro detto questo credo che dobbiamo agire non per complicare le cose ma semmai per complessificarle doato a Paolo Vaddalena che sempre ci riporta un po' coi piedi per terra personalmente mi fa piacere di rivedere ma ci siamo visti anche nelle altre assemblee me la faccio perché perché in quel di Parma dopo qualche mese lei convocava la prima assemblea nazionale dei gruppi spontanei è vero bene ti prego Ivano stringiamo sulla proposta ti prego ma non è perché dobbiamo badare al solo sì perdona sto finendo vabbè faccio il democraticismo c'è chi ha parlato due volte tre e allora vabbè veloce io ebbi a scrivere in quel locale la mozione nazionale di scioglimento dei parlamentini quelli universitari bene e il potere fu dato alle assemblee allora noi non parliamo del popolo di sovranità quindi l'assemblea è sovrana appunto assolutamente questo è così nella legge ma è chiaro che noi quando abbiamo avviato le assemblee ci siamo fatti un mazzo così abbiamo bloccato l'università e per un mese abbiamo lavorato chiaro non chiediamo a tutti questo però è chiaro che abbia inizio l'assemblea e il governo e la sua espressione boh non può essere un comitato scientifico ma da lei mi ha chiesto di essere il comitato scientifico io faccio questo lavoro da lontano 69 e ho detto di no perché ci sono tanti altri il comitato scientifico è di supporto a quello che è invece qui è stato chiamato il consiglio direttivo certo che in tutte le associazioni c'è il presidente un consiglio ma è sovrano all'assemblea noi poi ce l'abbiamo per doppia definizione perché diventa anche un'ipotesi per l'azione politica più generale e allora questo è il problema il comitato scientifico sarà di supporto il consiglio direttivo risponde all'assemblea chiedo di aumentare il numero non può essere di quattro persone anche perché c'ha dei compiti importanti ma non può rappresentare tutte le associazioni quella si chiama assemblea se il consiglio direttivo rappresenta tutte le associazioni allora che ci facciamo ecco deve essere sdello capace di lavorare un po' potenziare i quattro i quattro che sono stati disegnati come numero come sono sempre dispari perché sempre quindi integrare il numero dei componenti del consiglio direttivo perché l'assemblea sovrana che deciderà ogni cosa così per legge nelle associazioni è così che deve essere l'assemblea che è sovrana e semmai il consiglio direttivo risponde di come ha fatto lavorare quando chiede il supporto quando lo riceve autonomamente all'assemblea stessa grazie 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 ingroia io dovevo solo chiarire perché a me sono ben ben consapevole che il comitato scientifico diciamo per la sua ontologicamente diciamo non può essere organo di governo il punto io l'avevo proposto come soluzione come dire transitoria di ripiego invece la proposta di che cambia io ero partito da un presupposto infatti avevo iniziato se ricordate il mio intervento dicendo abbiamo due opzioni o il comitato direttivo è un organo meramente esecutivo o è quello che attua direttamente la volontà che viene dall'assemblea che ovviamente aggiungo ovviamente è sovrana ma non si può riunire quando si tratta di prendere decisioni immediate quindi ci vuole un organo che in base alla linea dettata dall'assemblea li traduce in azione quest'organo vogliamo che sia il comitato direttivo sono perfettamente d'accordo ma se è consiglio direttivo quindi in questo senso se raggiungiamo diciamo consenso su questo punto ritiro quella proposta che era meramente transitoria di modifica dei poteri del comitato scientifico anche se quello che dicevi che dicevi tu rimane perché va ben chiarito poi come opera nella dialettica degli altri organi sociali il punto però è che non allora se si trasforma in organo di governo come dicevi tu Paolo condivido non può essere composto da quattro deve essere deve essere rappresentativo secondo me ci dovrebbero essere due passaggi e contenga lo diceva anche il professore contenga in sé una parte più ampia dopodiché ci sarà io ricordo anche nei sindacati c'è il cosiddetto consiglio nazionale e poi c'è un comitato esecutivo il comitato esecutivo è composto da quattro che vengono eletti dal consiglio nazionale però si fa una elezione di secondo grado non viene eletta dall'assemblea è una elezione di secondo grado che si fa all'interno dell'organo rappresentativo delle assemblee quindi assemblee votano con necessaria secondo me rappresentanza territoriale se è possibile io ritengo di condividere anche ci dovrebbero essere anche quelle delle organizzazioni che sono state soci fondatori dopodiché dentro questo questo organismo si elegge un piccolo comitato esecutivo è il presidente vicepresidente il tesoriere questo è giusto che lo faccia quel mini parlamentino che è espressione dell'assemblea mi pare che l'architettura dovrebbe essere così grazie se oggi riusciamo ad articolarlo non lo so questa è un'altra questione grazie Marco chi c'era qualc'altro con la parola Marco io ho segnato Marco e poi dove è Marco ah ma si scusami scusate io volevo solo farvi siccome non sono un giurista non so questo però solo un piccolo richiamo all'insegnamento di Mauro di stamattina sul dialogare secondo Costituzione mi pare che non venga proprio seguito al massimo nel senso che sarebbe carino che le persone mentre parla qualcuno ascoltassero senza chiacchierare tra di loro questo in generale a parte la Costituzione che chi parla se non si è già presentato si presentasse a beneficio di chi come me non conosce tutti i presidenti i rappresentanti e le cose del genere che non dia per scontato che tutti sanno chi è grazie e ovviamente sarebbe anche molto utile secondo anche la piccola mia esperienza associativa che ho avuto anch'io che siccome noi abbiamo degli obiettivi molto urgenti e molto gravi sarebbe bello che ognuno limasse un po' le sue così spinte di voler fare le cose esattamente proprio in quel modo lì che se non è manca quella cosa lì allora io mi dissocio ecco questa roba qua cerchiamo di tirarla via e di cercare di dire ok la cosa non è esattamente come la vorrei però è come se avessimo una pistola che ci sta qua e stiamo lì a dire no però aspetta io mi devo mettere un po' più così abbiamo delle urgenze gravi proprio urgenze io le sento come urgenze perché magari sono più giovane di altri che magari hanno già però vi prego di considerare questo aspetto è molto importante nel dialogo grazie Guido Guido cercherò rapidamente di dire il mio pensiero io sono un esperto di organizzazione ho organizzato ho riorganizzato aziende decotte cambiando funzioni eccetera quindi mi intendo un po' di queste cose il consiglio direttivo come associazioni anche perché ne fate tante il consiglio direttivo è chiaro che deve essere è l'organo esecutivo dell'associazione quello che lavora e l'assemblea qualcuno ha detto l'assemblea non deve essere chiamata tutte le volte l'assemblea è chiamata intanto una volta all'anno per approvare il bilancio e forse non iscritto approvare anche il piano che il consiglio direttivo ha fatto per l'anno successivo una volta che è stato approvato il piano poi il consiglio direttivo lavora tutto l'anno tranquillamente per evitare poi il fatto di cambiare lo statuto quando si vorrà riorganizzare bene tutto quanto io direi di scrivere che gli organi istitutivi potranno nell'ottica della diramazione territoriale futura potranno crearsi organizzazioni interne atte a lavorare meglio a svolgere il lavoro in modo corretto grazie Guido puoi lasciarla a lui questa proposta la lascia a lui e poi se del caso la votiamo ok a lui visto che l'amico esperto di poste sarò telegrafico mi ha qualche modo ispirato telegrafico allora credo e stamattina ho avuto anche un fugacissimo scambio di idee su questo punto prescindendo dall'aspetto puramente nominalistico di esecutivo e direttivo mi era parso di capire così era che questo direttivo così come era stato concepito altro non fosse che un esecutivo allora scusate voi ci siamo un po' bloccati portiamo il rischio di finire in un chiude sac per quale motivo non istituire l'esecutivo chiamiamo questo direttivo esecutivo tre persone il presidente il segretario il vicepresidente o il tesoriere tre quattro persone esecutivo esecutivo prego una vice sì vabbè per brevità allora comunque condivido ci mancherebbe il direttivo invece senza limiti di numero si prevede un minimo sicuramente anche in vista della futura articolazione territoriale che sicuramente deve prefigurare la presenza di altrettanti coordinatori regionali che si può prevedere attraverso una modifica dello statuto da fare o prefigurandola fin da questo momento nel direttivo saranno entreranno di diritto i coordinatori regionali questa è un'ipotesi di lavoro ovviamente l'assemblea giovanni politico giovanni politico e allora prego sì prego dopo non c'è buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutti mazzeo girolamo di bologna imprenditore mazzeo girolamo di bologna imprenditore io sono qui e veramente ho partecipato a questa a questa riunione con molto entusiasmo con molto interesse ho visto vorrei confrontarmi con voi per vedere se io mi sbaglio o no cioè questa associazione secondo me è una leva importantissima per la risoluzione dei problemi d'Italia cioè questa è qualcosa non so non l'ho sentito dire a nessuno e per questo mi viene qualche dubbio è una leva di enorme forza perché se noi applichiamo la costituzione in Italia noi risolviamo tutti i problemi del paese cioè sono 70 anni che noi lottiamo sono 70 anni che noi degradiamo perché perché non si applica la costituzione io credo che questo progetto è un progetto importantissimo a cui bisognerebbe partecipare con veramente molto impegno e credo però che l'organizzazione forse l'ha organizzata in poco tempo perché vi dirò secondo me non esiste futuro se non esiste per qualsiasi progetto questo per esempio può essere un progetto ma non esiste futuro di nessun tipo se non esistono i giovani io qui ne ho visti pochi forse nessuno l'ultimo mi ha mi ha anche ispirato a intervenire perché ha detto delle cose precise ovviamente ho sentito delle parole giovani come quelle del professore come quello cioè ho sentito sì due e mia figlia tre va bene e questo è un discorso molto importante di coinvolgimento prima ieri l'avvocato Falcone per esempio ha messo il punto su questa situazione qualcuno stamattina ha parlato di organizzare dei luoghi dove le mamme possono tenere i bambini per esempio intrattenere stringo finisco però ecco vorrei molta attenzione su questo punto perché se ci saranno giovani che partecipano a questo tipo di assemblee questa assemblea e questa associazione che si sta costituendo avrà un futuro senza giovani non si va da nessuna parte grazie per concludere ho sentito parlare il professore con parole molto giovani stanare il nemico questa è un'affermazione da giovane la finanza ci lascia senza scarpe senza vestiti senza niente da mangiare io vorrei trasformare queste parole in fact concreti perché è tutto quello che è successo a me io sono un ex imprenditore con un'azienda che nel 2007 ha fatturato 20 milioni di euro ne ha guadagnati 7 milioni e mezzo e oggi si ritrova a causa della finanza senza scarpe senza vestiti eccetera grazie 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 allora scusatemi Paolo Paolo io devo fare una cosa importante perché Mario Sommella ha chiesto la parola e non si può spostare da qui quindi gli porto io il microfono e soltanto all'assemblea chiedo che qualora scusatemi mi chiamo Mario Sommella ex operaio metalmeccanico oggi mi occupo di comunicazione e sono uno studente di scienza della comunicazione esperto in sistemi di democrazia diretta e partecipata niente vorrei chiedere a questa assemblea che è deliberante quindi dovrebbe ratificare che qualora in futuro si dovessero palisare o identificare degli strumenti doni che possono allargare la partecipazione anche attraverso la tecnologia di sì ma se non lo mettiamo in statuto non non è prevedibile una cosa del genere dirlo già da adesso qualora ci fossero questi strumenti eventualmente di studiarli e di eventualmente adottarli perché questo è un metodo che ecco in questa occasione ci stiamo trovando con persone che purtroppo non potranno votare al limite prima di andare via purtroppo vanno via non danno il loro assenso o dissenso ecco continuare eventualmente la votazione per esempio dell'assemblea anche con delle strumentazioni qualora si identificassero queste cose io credo che siano abbastanza importanti ultima cosa volevo sapere se era stato aggiornato il comitato scientifico con i personaggi ok grazie il comitato scientifico è quello che ha letto Paolo Maddalena e volevo non ce la facciamo guardate non ce la facciamo le persone devono partire chiedo scusa c'è una giurisprudenza della corte costituzionale scusa amico c'è una sentenza della corte scusatemi siamo alla conclusione secondo giurisprudenza costante della corte costituzionale il tempo è elemento che muta le situazioni fino a questo punto abbiamo potuto ascoltare adesso ci sono persone me compreso che devono partire quindi abbiamo sentito tutto e mi ha detto Luigi fai tu le conclusioni su questo punto io credo che è stata molto positiva non solo tutto l'andamento del convegno ma anche il discorso che si è fatto stasera c'era un buco nello statuto che è stato rilevato da Giulietto Chiesa e da Antonio Ingroia credo che l'unico modo più spicciolo più spedito di risolvere la questione è aggiungere al comitato scientifico il compito non solo di essere un organo consultivo ma anche propositivo ampliare il numero dei comitato direttivo portandolo a 7 a 7 il numero del comitato direttivo nel quale poi evidentemente ci saranno anche i rappresentanti locali si vedrà come fare ci sarà un regolamento eccetera e mettere alla lettera A che è organo deliberativo è chiaro che l'indirizzo politico di governo è dato dall'assemblea ma comunque porre in atto le azioni conseguenti eccetera le decide il consiglio direttivo se siamo tutti d'accordo su questo sei d'accordo Giulietto Antonio mi pare che no Antonio tu sei d'accordo con quello che ho detto adesso come ma guarda figlio bello adesso se noi ci mettiamo troppi cali accantà non fa mai giorno seguiamo le cose col tempo già ci siamo superati da soli adesso stiamo con i piedi per terra 7 io ho vissuto tutta la vicenda sono secondo me un numero equo di rappresentanti che fanno parte dell'organo deliberativo perché se cominciamo a mettere chi porta le esigenze di quel paesino lì di quel paese non la finiamo più adesso la cosa è seria l'ha messa in evidenza l'ultimo che è intervenuto la cosa è seria perché noi vogliamo niente po' di meno che attuare la Costituzione la quale ancora non è stata attuata quindi io faccio e metto ai voti e perché anche perché dobbiamo partire questa proposta modifica approviamo lo statuto con queste modifiche il comitato direttivo ha come prima funzione funzione deliberativa e tutto il resto il comitato scientifico ha funzioni consultive e propositive il numero dei componenti del consiglio direttivo viene portato da 4 a 7 per ora e non mettiamo altri limiti secondo l'andamento delle cose potrà essere anche aumentato io credo che con questa obiezione la maggioranza dei presenti possa essere onestamente d'accordo che poi qualcuno abbia delle altre idee qualcuno che mi vuole parlare e dire noi siamo qui aperti democraticamente aperti e ve l'ho dimostrato immediatamente coi fatti ho cambiato opinione la proposta è che non venga eletto oggi nessun comitato direttivo che provvisoriamente il potere sia mantenuto potere diciamo di governo e di indirizzo dal comitato dei garanti e che venga aggiornata una nuova assemblea soci per definire i criteri di elezione del comitato direttivo perché c'è il tema dell'adesione alla corrispondenza dei territori che è stata posta che credo che è importante ma oggi non siamo in grado dobbiamo andare via dobbiamo votare sette in base a quali criteri li scegliamo questi sette cioè ci guardiamo in faccia e decidiamo chi di noi deve fare parte caro Antonio tu sai quanto ti voglio bene e quanto ti stimo tu non sai quanto lavoro alcune persone hanno speso fino a questo momento questo è un momento che dovrebbe essere onestamente solo di ratifica invece qui stiamo cambiando addirittura tutto e vogliamo affidare l'interregno come se già esistesse qualcosa ai garanti che non ci sono manco tra nome e Lidia che stanno per i fatti loro quindi ragioniamo con i bietti per terra la situazione è quella che è se avete fiducia nell'onestà delle cose che dico se avete fiducia nell'onestà di quello che dico la soluzione che possiamo adottare è solo quella di fare un consiglio direttivo di sette membri per ora di sette membri per ora sette membri almeno sette membri scriviamo non meno di sette membri scriviamo di sette membri per ora che può essere e aggiungiamo che il consiglio il comitato scientifico ha funzioni consultive e propositive a questo punto io scusate siccome ho il treno do il mio voto su questo su questo e scappo eh si mette i voti votiamo eh Giuseppe mettiamo i voti la proposta definitiva e se si approva cosa dobbiamo fare no approviamo se non mettiamo in votazione la nostra e mi vuole che sia la sua proposta allora dice Federica sì ok vediamo questa e poi trattiamo quella allora mettiamo ai voti la proposta del professor Paolo Maddalena chi è favorevole alzi la mano e credo che sia la maggioranza o devo contarli la prima la contraria chi è chi è a favore devo mettervi contro chi è per la proposta di ingroia o chi è chi è contro la proposta di Maddalena chi si astiene chi si astiene approvata approvata devo mettere i voti la allora mettiamo ai voti lo statuto con la correzione fatta da professor Paolo Maddalena chi è d'accordo chi è contrario chi si astiene questa di cui abbiamo discusso ora ok allora questa mi sembra che è approvata questa modifica dello statuto posso c'è la modifica che ha apportato Federica la mettiamo ai voti ricordate quella che prevede la leggiamo leggila i comuni come enti esponenziali della comunità si impegnano ad eliminare tutte le situazioni anche pregresse in via di autotutela affinché nel territorio di competenza siano attuati in concreto i principi e le norme della costituzione il mancato rispetto di questo obbligo comporta la decadenza dalla qualità di socio io non ho mai fatto politica quindi supplementamento approvato ok chi è d'accordo con questa proposta aspetta questo è l'articolo questo è l'articolo 5 comma 1 scusate 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 un momento solo un momento vorrei dirvi che dal mio punto di vista i comuni possono impegnarsi aderendo a questo processo ad adottare intanto le delibere che abbiamo loro sottoposto e lo scopo sociale dell'associazione poi uno può dire si auspica al limite si auspica che ma più che si auspica che non è che possiamo andare cioè Federica dobbiamo essere realisti per favore grazie Federica la mettiamo ai voti chi è d'accordo con questa proposta chi è contrario chi non vuole apportare questo questo emendamento contrario non è nessuno evidente chi non vuole apportare perché lo statuto ha una sua logicità e questo è all'articolo 5 comma 1 si apporterebbe la seguente modifica i comuni subemendamento aderenti commenti esponenziali della comunità si impegnano ad eliminare tutte le situazioni anche pregresse in via di autotutela affin fatemelo leggere tutto prima ragazzi poi subemendate allora ripeto perché se no i comuni aderenti commenti esponenziali della comunità si impegnano ad eliminare tutte le situazioni anche pregresse in via di autotutela affin io la sto solo leggendo ragazzi io io non lo posso correggere mentre lo leggo cioè è impossibile io devo lo devo leggere com'è chiarissimo lo propone così poi uno non lo vota no no allora allora scusate Giovanni Politi Giovanni Politi e tutti quanti abbiate no 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 scusatemi scusate scusate Franco per favore ma lo dico per favore una mozione chi è il presidente dell'assemblea Paolo Maddalena quanta gente c'è in sala e qual è il quorum per cortesia perché che stiamo a fare chi è il presidente dell'assemblea mette da lettura alle mozioni che si mette ai lutti non sta saccacciando c'è un segretario che legge le mozioni ma no è poverino non può farlo in questo modo chi è il presidente Paolo Maddalena scusate se Paolo Maddalena non deve andare perché dovrà andare lasciatele dobbiamo 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 convergere dobbiamo convergere la proposta in sé è buona contiene una sola parola che non può essere accettata e che però può essere lievemente modificata io ve la leggo nel senso che io come io la leggerei nel senso da me è modificata i comuni aderenti come enti esponenziali della comunità si impegnano ad eliminare tutte le situazioni ove possibile anche le pregresse in via in via di autotela in via di autotela affinché nel territorio di competenza siano attuati in concreto i principi e le norme della Costituzione il mancato rispetto di quest'obbito comporta la credenza dalla qualità di socio per tenere perché non si può procedere per forzature non ci porta da nessuna parte ok allora fatto questo principio ci sono anche consiglieri comunali in platea e ci sono persone che di questo hanno una competenza ok allora mentre passa ove possibile proposto da Paolo Maddalena no scusatemi perdonatemi allora mentre passa ove possibile pena la decadenza a cosa si riferisce possiamo rileggere il periodo ove possibile anche pregresse in via di autotutela affinché nel territorio di competenza siano attuati in concreto i principi e le norme della Costituzione è questo periodo che si riferisce il mancato rispetto di quest'obbligo comporta la decadenza della qualità di socio e l'impegno globale ad eliminare tutte le situazioni ove possibile anche pregresse ma così deve andare bene per forza l'obbligo è eliminare tutte le situazioni ove possibile anche pregresse va bene è un rafforzamento dell'obbligo non lo so quale efficacia può avere comunque metto a votazione chi vota a favore chi vota contro è approvato Paolo vai avanti per favore vai avanti con le cose che ci sono da fare dunque con questa assemblea e il tempo stinge devo veramente c'è il treno che parte noi abbiamo anche indicato proposto dei nomi i nomi proposti per le cariche del consiglio direttivo per le cariche del comitato del comitato scientifico per la nomina del presidente che io ho indicato in Luigi De Giacomo diciamo che il vicepresidente lo nomina il presidente io non ho mai avuto una carica associativa in vita mia quindi stai dicendo una cosa che figuriamoci se dovessi essere io nomino vicepresidente no cioè non sapevamo nemmeno che io non lo sapevo a me che lei ci ha la vostra vicepresidente ecco allora questo è e l'ho detto stamattina dove sta l'ho riletto più volte i nomi del consiglio direttivo io ho detto mi fate inizio l'ho letta no vabbè vediamo ci sai dove prendili vediamo come se dove sta ecco 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 dunque i nomi del del consiglio direttivo sono presidente Luigi De Giacomo e poi due persone che si sono adoperate nel silenzio ricordate che l'ho citata stamattina cioè Carlotta Balzani e Maria Gagliotta il vice presidente il vice presidente chi è il vice presidente il vice presidente sarà nominato dal presidente perché gli altri quattro nomi gli altri quattro nomi saranno portati all'approvazione della prossima assemblea se ci sono candidati che si presentano lo facciamo adesso allora si candida ti vuoi candidare tu puoi passare va bene allora Ivano Scano Ivano Scano si c'è a voce Maurizio Giardone si presenterà lo proponiamo noi non è che si lo proponiamo noi va bene allora Ivano Scano un applauso per Ivano Scano che veramente c'è l'America Maurizio Maurizio Franzoni Sansone 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 con tutti i fili sei Sansone poi Bianchi Bianchi poi Nicola Lanza basta siamo arrivati a 7 e sei arrivata fuori tempo siamo arrivati a 7 scusatemi scusatemi vorrei un momento di silenzio vorrei scusatemi 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 io vorrei un momento di silenzio anche Claudio per favore allora perdonatemi davamo tutti per scontato che Paolo Maddalena si candidasse come presidente fosse il presidente naturale di questa assemblea ok come dire io non posso discutere la sua indicazione ma è del tutto evidente che mi sembra che la scelta di Paolo sia perché questo direttivo sia un direttivo di lavoro e non di rappresentanza tra virgolette allora no scusami fatemi finire devo fare una dichiarazione se me la fate fare Enrico della Gatti prego fatemi fare una dichiarazione poi l'assemblea però perdonatemi Claudio perché altrimenti come dire stiamo finendo dobbiamo ci sono i due tavoli che vogliono relazionare a chi rimane e quindi relazioneranno a chi rimane però perdonatemi io ho un'esperienza abbastanza mortificante di quello che significa dedicarsi al lavoro associativo mortificante non perché sia mortificante il lavoro l'ho scelto come come dire di essere a servizio come primo scopo della mia attività umana ma mortificante perché poi tra il mettersi a servizio e il lavoro e il lavoro c'è una distanza abissale allora la mia unica osservazione è che se Paolo Maddalena con la sua tra virgolette proposta intende che questo comitato direttivo sia di lavoro e cioè scelga di avere come sua priorità questo tipo di attività io vorrei che questo sia una riflessione da fare a livello di assemblea e che tra chi dice ma noi vorremmo avere il tempo di capire chi sono le sette persone del comitato direttivo e chi propone candidature ci fosse perlomeno la riflessione di base e cioè che questo comitato direttivo deve tirare la carretta allora perdonatemi se deve tirare la carretta che io sia alla segreteria operativa o alla presidenza non cambia la vita mia sicuramente ma credo la vita di nessuno ma che le sette persone che stanno nel direttivo invece di essere nel comitato scientifico o invece di essere nell'assemblea dei sosi scelgano di essere nel direttivo fa molta differenza allora io vi prego di farla questa riflessione perché se fosse stato per me non ci sarebbe stato manco lo statuto perché ritengo che è talmente alta la missione è talmente forte il riferimento della costituzione che avere uno statuto che c'è obbligo di legge per me era una cosa un po' repellente cioè per me mi era un po' repellente ecco questa riflessione vorrei lasciarvela però perché se deve tirare la carretta non mi vorrei ritrovare in un comitato direttivo dove non c'è bisogno che ci sia per tirare la carretta già lo faccio non so se è chiaro il senso quindi le riflessioni le lascio a voi le riflessioni le lascio a voi se la proposta di Paolo Maddalena è vorrei un direttivo che tiri la carretta a voi diciamo le conclusioni dopo la chiarificazione di Luigi i candidati giurano riconfermano però quello che ha detto Luigi è in contrasto la musica è solo tutto e perché funziona decisionale dice poi io ho parlato da Luigi De Giacomo che è ancora Luigi De Giacomo non presidente di questa assemblee di questa ma neanche della situazione però rendi conto che non ha solo il compito di tirare la carretta anche la decisione mi confetti molto poco rispetto alla mia persona adesso parliamo vorrei la conferma dell'assemblea sui nomi che abbiamo detto sotto il profilo di tirare la carretta e sotto il profilo di deliberare come? Presidente Luigi De Giacomo gli altri nomi li ho scritti tutti gli altri nomi gli altri nomi sono Carlotta Balzani dov'è? Salve a tutti mi chiamo Carlotta Balzani ho 29 anni non ho mai fatto politica non ho mai avuto una tessera di partito sono laureata in scienze internazionali e diplomatiche sono esperta in progetti di finanziamento e fondi europei presso la facoltà di giurisprudenza di Bologna in collaborazione con il centro internazionale di ricerca su diritto europeo e sono presidente del comitato salute casentinese un comitato di zona montana e disagiata sito in provincia di Arezzo dove nasce l'Arno siamo molto attivi sul territorio regionale e faccio parte del coordinamento sanità nazionale che si è costituito durante questo evento di attuare la costituzione è un dovere inderogabile se fossi Napoleone direi bene hai tanti incarichi quindi a te si può anche dare un altro incarico posso dire allora altra l'altra allora io sono sono questi due giorni non ho mi chiamo Alberto Michalizzi questi due giorni non ho mai parlato e forse alcuni di voi hanno anche chiesto appunto il perché perché come appunto Gigi ha chiedo scusa senti chiedo scusa come ha detto sì io Paolo dico solo questo qua secondo me non ci sono le voglio fare no dico è tardi dobbiamo vabbè Paolo io non dico altro secondo me non ci sono le condizioni per completare un percorso di tre anni dove molti di noi hanno messo moltissimo impegno buttare tutto quando uso questa parola di cui ho appunto pensato molto buttare tutto in una calderone in cui non è chiaro molti dei presupposti importanti abbiamo ancora il tempo adesso di non fare l'errore di disegnare uno scarabocchio che poi di cui potremmo poi pentirci il mio suggerimento è che tu Paolo prendi a mano questa cosa e ci dia la possibilità di chiudere meglio allora scusatemi io concludo definitivamente i nomi i nomi i nomi che sono stati presentati e sui quali c'è convergenza assoluta perché sono conosciuti sono per il comitato direttivo Carlotta Balzani Maria Gaiotta per il resto se ho capito sarà la prossima assemblea a decidere se accogliono con questo dichiaro chiusa la seduta grazie